Un cordiale saluto a tutti gli amici del Salotto di Senigallia e forse anche a qualche ospite nel nostro canale su YouTube. Oggi proponiamo la prima conferenza del nostro nuovo ciclo sul Novecento a cura del dottor Leandro Sperduti. Lui parlerà oggi dell'arte di quel secolo, lo stile Liberty, Art Nouveau, eccetera. Purtroppo in questo momento possiamo solo fare delle videoregistrazioni senza pubblico e sicuramente anche la prossima conferenza sul colonialismo del Novecento sarà in tal modo. Dopo speriamo che possiamo lentamente ricominciare di fare la nostra solita attività culturale con pubblico, incontri, insieme. Speriamo. Fino ad allora posso solo augurare a tutti state bene e in salute. Questo è l'importante. Grazie. Adesso la parola a Leandro Sperduti. Buonasera e bentrovati a tutti. Come è stato detto cominciamo oggi il nostro ciclo dedicato al Novecento. Dobbiamo ovviamente affrontare un secolo così complesso con una certa, se vogliamo anche delicatezza. È un periodo che abbiamo vissuto la gran parte di noi e quindi che siamo in grado da una parte di giudicare, ma dall'altra anche di vedere, forse con una certa indulgenza, soprattutto su quelli che sono stati i momenti complessi e anche difficili di questo secolo. Alterneremo una serie di incontri di carattere artistico o culturale ad una serie di incontri di carattere più propriamente storico, in modo da poter affrontare tutte queste problematiche con tranquillità e una certa oggettività di giudizio. Oggi cominceremo a parlare di quello che è il passaggio artistico e culturale tra il XIX e il XX secolo. È un passaggio estremamente importante perché considerate che il Novecento è un secolo segnato da grandi contrasti, da uno straordinario avvicendamento di fatti storici e anche, potremmo dire, da una velocità di evoluzione, di sviluppo e di progresso come non c'è stato in nessuno dei secoli che hanno preceduto questo momento così importante nell'ambito della storia umana. È difficile per ciò che riguarda la cultura e l'arte segnare un po' una cesura pianetta nel passaggio tra il XIX e il XX secolo, perché la gran parte dei movimenti o dei fenomeni culturali che manifestano i primi decenni del secolo hanno già un loro prologo, un loro apparire negli ultimi decenni dell'Ottocento. E questo sia per ciò che riguarda la cultura letteraria, musicale, ma anche l'arte figurativa. Oggi nel caso particolare ci occuperemo di quelli che sono dei movimenti artistici estremamente importanti, che per la prima volta hanno veramente una localizzazione non probabilmente geografica, ma hanno, potremmo dire, veramente una sorta di diffusione globale. Noi siamo stati abituati in tutta quanta la storia umana e nella storia dell'arte, dall'antichità fino proprio al XIX a occuparci di quelli che sono in realtà dei fenomeni che potremmo definire locali, che so io. Noi parliamo per esempio di un romanico italiano, quando non è addirittura di un romanico lombardo, di un romanico meridionale, eccetera. Oppure parliamo di un gotico francese o di un gotico fiammingo, oppure possiamo parlare di un rinascimento italiano. Ecco, con l'avvento del Novecento noi abbiamo invece delle fenomenologie artistiche e culturali che per la prima volta arrivano ad interessare veramente una buona parte del mondo. Quindi è interessante come il progresso, i sistemi di collegamento, sia di collegamento nel senso di movimento spaziale, sia di comunicazione attraverso il telegrafo, in prima istanza, ma poi anche altre forme di comunicazione, fanno sì che queste fenomenologie artistiche e culturali, pur originando magari in un luogo specifico, arrivano poi a diffondersi veramente in chiave globale o quantomeno sicuramente in chiave continentale. Ecco, queste sono cose estremamente importanti. E non sorprende che un fenomeno interessante e importante come per esempio l'Art Nouveau, che è quello di cui ci occuperemo proprio questa sera, sia presente un po' in buona parte dell'Europa a cavallo tra il XIX e il XX secolo, seppur con dei nomi, seppur con in realtà una terminologia diversa. Ecco, quindi questa è una cosa estremamente interessante. E dovremo vedere come arriviamo a queste vicende, come queste vicende si evolvono e come la cosa poi viene affrontata e come viene interpretata, se mi passate il termine, culturalmente nei diversi paesi dell'Europa, generando quelli che sono i primi veri fenomeni diciamo culturali anche di avanguardia che caratterizzeranno veramente buona parte del XX secolo. Ecco, grazie dell'attenzione. Cominciamo quindi a vedere tutto questo. Ora, la fine, gli ultimi decenni del XIX secolo sono caratterizzati in realtà da una grande, importantissima evoluzione tecnologica. Non è caso, noi in relazione soprattutto agli ultimi tre, due decenni dell'Ottocento parliamo di una seconda rivoluzione industriale. Abbiamo avuto modo di parlare, in questo stesso ambito, sempre per il salotto di Singaglia, proprio di quel fenomeno che viene indicato come modernismo e che ha dei risvolti in ambito letterario, musicale, storico e ovviamente artistico. Questa straordinaria evoluzione dettata proprio da un grande progresso non solo tecnologico ma anche scientifico, che era quasi un'attesa messianica del Novecento. Io potrei dire, che quasi nessun secolo è stato mai tanto atteso, un po' in tutto il mondo, quanto l'avvento del Novecento. Molte popolazioni in Europa, come anche nel Nord America, ma anche nel continente asiatico, attendevano l'avvento del Novecento come l'avvento di un secolo veramente di rinnovamento, il superamento di tutta una serie di problematiche, il superamento di una serie di angosce, anche di, potremmo dire, piccolezze, di mali che avevano caratterizzato la storia umana nel corso dei suoi secoli. Il Novecento veramente aveva un'attesa messianica. Neanche il passaggio del millennio, cioè neanche il passaggio dal Novecento al Duemila, ha avuto tante attese quanto l'avvento veramente del Novecento. Questo forse perché l'Ottocento era stato un secolo particolarmente sofferto, c'erano state l'affermazione degli imperi, c'era stata la formazione di nuovi stati e così via, il manifestarsi della questione sociale. Quindi, insomma, il Novecento è veramente molto fortemente atteso. Quando il Novecento è arrivato, è arrivato carico di una straordinaria innovazione tecnologica. Quindi è parso veramente che l'avvento di questo secolo vedeva il concretizzarsi di tutte queste attese. Anzi, il fatto che si presentasse un secolo di tecnologia in cui veramente trionfava la ragione, la tecnica, la scienza, soprattutto negli ambienti intellettuali dell'Europa, è parso manifestarsi come il, diciamo, concretizzarsi di quelle che erano stati i pensieri illuministici. L'illuminismo, alla fine del 1700, aveva vagheggiato dell'avvento di un'epoca in cui veramente il trionfo era legato alla ragione e alla scienza. E il Novecento sembrava veramente il concretizzarsi di queste attese. Quindi moltissimi salutarono l'uomo secolo con grande felicità, grande entusiasmo. Soprattutto perché questa straordinaria industrializzazione aveva portato ovviamente tantissime innovazioni, aveva portato all'abbattimento dei prezzi di alcuni prodotti, aveva portato diciamo uno sviluppo straordinario, una circolazione delle merci, una maggior velocità di spostamento. Tutto questo sembravano ovviamente degli eventi straordinari. In realtà però già negli ultimissimi anni dell'Ottocento, ma ancora più con l'avvento del Novecento, cominciarono ad avvertirsi quello che noi oggi possiamo considerare degli effetti secondari, dei colpi di coda del modo di essere della società umana nell'Ottocento, ma anche potremmo dire degli effetti collaterali di questa seconda, appunto possiamo definire seconda rivoluzione industriale. Infatti per esempio la produzione di massa, cioè il fatto che ogni oggetto non era più prodotto di un'attività artigianale, ma era frutto di una catena di montaggio, di una produzione industriale, quindi veramente la produzione in massa a catena di montaggio, se da una parte hai avuto il merito certamente di far precipitare i prezzi al dettaglio, hai avuto il merito di far diffondere enormemente un prodotto affinché questo potesse essere non più appannaggio delle società più evolute, ma anche delle società potremmo dire quantomeno intermedie, dall'altra però è a posto tutta una serie di problemi. Cioè molti intellettuali già negli ultimi decenni dell'Ottocento si sono domandati quanto questa produzione in massa, meccanica potremmo dire, non avesse cominciato a creare veramente delle problematiche nell'originalità e nella libera fantasia umana. In fondo ogni prodotto dell'artigianato in quanto veramente manifestazione della genialità, della capacità, della manualità, per esempio di un singolo uomo, di un singolo artigiano, potrebbe essere considerato un elemento originale e quindi l'artigianato era in fondo molto molto vicino all'idea della creazione artistica e quindi ci si cominciò a domandare quanto la produzione in massa non solo non portasse alla fine dell'originalità dell'artigianato, ma quanto compromettesse la stessa libertà della fantasia e del pensiero dell'uomo, oltre ovviamente a minare fortemente quello che era il senso stesso dell'arte. Ciò che cominciò a pensare che l'arrivo, il proliferare dell'industria, l'avvento di una società fatta di macchine, fatta di acciaio, di ruote dentate, fatta di e diciamo catena di montaggio, non segnasse veramente la fine della fantasia, dell'originalità, dell'arte umana, in qualche modo anche del concetto stesso di unicità del prodotto del pensiero umano. E non sorprende che quindi, se è vero che un po' in tutta quanta l'Europa cominciarono a proliferare stabilmente industriali, produzioni, diffusioni in realtà di macchine, di sistemi di comunicazione, ferrovie che certamente avvicinavano le varie nazioni, dall'altra cominciarono proprio in quei paesi, come l'Inghilterra ad esempio, che per prima avevano conosciuto lo sviluppo dell'industrializzazione, cominciarono dei moti di reazione, moti di reazione che a noi sembrerebbero strani in un'epoca in cui in fondo l'industrializzazione è così diciamo ancora nascente, ancora embrionale, ma che segnano comunque già una nuova presa di coscienza di quello che sarà in realtà il futuro, di quella che può essere l'evoluzione di questo modo di ragionare. Ecco allora che già nell'Inghilterra, negli anni Ottanta del 1800, comincia a diffondersi un fenomeno culturale che noi conosciamo come estetismo, cioè in un mondo che ormai sembra dare pochissima importanza all'unicità, all'artigianato, al prodotto del pensiero del singolo uomo, c'è chi comincia a rivalutare il senso del bello. L'industria infatti sembra più preoccupata a produrre l'utile, a produrre l'efficace e non necessariamente direzionata al bello. Ecco, gli estetisti inglesi dell'Ottocento invece mirano al bello, al bello come diciamo vero fine dell'arte, anzi addirittura l'arte che precedentemente aveva tantissime funzioni, l'arte aveva anche la funzione dell'utile, anche la funzione dell'efficace. A un certo punto viene riscoprendo in pieno proprio il suo carattere di bello. Questo è un po' il senso vero degli estetisti inglesi. E non sorprende quindi che cominciarono a svilupparsi delle personalità che veramente cominciarono a ricercare il senso del bello, del bello veramente fine a se stesso. Tra questi personaggi, ad esempio, abbiamo personaggi come Serval Matadema, uno straordinario pittore estetista, potremmo definire appunto della fine dell'Ottocento, inglese, che va a ricercare nell'arte antica, anzi negli elementi potremmo dire, degli elementi dell'arte classica, nei personaggi, nelle storie connesse con l'antichità romana o connesse con il mondo classico, la ricerca del bello assoluto. È come se ci fosse un nuovo classicismo. Come il neoclassicismo, alla fine del Settecento, aveva salutato nell'arte antica veramente l'esaltazione della sublime perfezione classica, gli estetisti cosa fanno a fare. Vanno a vedere, non solo nell'arte, ma anche nell'atteggiamento, nella vita degli uomini antichi, veramente la ricerca del bello. L'essenza di questo movimento, del movimento avuto del cosiddetto estetismo, è l'arte fine a se stessa. Lars grazia artis, cioè l'arte in assoluto. L'arte come ricerca del bello, non per l'utile o per la funzione, ma per il bello in quanto tale. E allora, ad esempio, questo dipinto che vedete qui, questo è uno dei dipinti più famosi di Charles Matadema, rappresenta appunto le cosiddette rosse di Elio Gabalo. Elio Gabalo è stato un imperatore romano del III secolo, famoso per i suoi eccessi, ma anche per il suo amore veramente maniacale per la rosa. E cronache, in fondo, non tanto attendibili dell'epoca, parlano del fatto che lui faceva piovere sui suoi convitati durante la cena veramente ondata di petali di rose. Ecco, curioso il fatto che in questo dipinto, ad esempio, non si tiene conto di quella che è, diciamo, la realtà politica o storica di Elio Gabalo, ma il senso di questa pioggia di rose piace in modo particolare. E come tale gli estetisti dell'Ottocento e al Matadema, in questo caso, appunto, si dedica alla ricerca del bello, anzi del senso del bello in quanto tale. Ci sono del resto, proprio in questa corrente, in questo periodo, personaggi che vanno a ricercare in un mondo che insegue, diciamo, insegue la tecnologia, la tecnica e il progresso, vanno a ricercare il senso del bello della vita. E sono personaggi come Oscar Wilde, che vedete qui a sinistra, insieme al nostro Gabriele D'Annunzio. Personaggi, oltre che aver abbracciato il senso dell'estetismo inglese della fine dell'Ottocento, fanno anche in realtà un tentativo, un'idea, una cosa che è tipica di questo momento, cioè cercare di vedere, visto che a quanto pare l'arte è l'unica essenza che è in grado di cogliere il bello, e quindi di cogliere il sublime, fare della vita un'opera d'arte. Personaggi che passano la loro esistenza in eccessi, in abiti straordinari, oppure che passano la loro esistenza nell'intento di vivere circondate da bellissime donne, visitando luoghi magici, ma soprattutto vivendo veramente ai limiti delle loro possibilità. Perché solo una vita consacrata al conseguimento della trasformazione della propria vita in oggetto d'arte risulta essere una vita in qualche modo degna di essere vissuta e degna soprattutto di essere ricordata. I due personaggi che vedete qui sono solamente due di tutta una pletora di artisti, letterati, filosofi, pensatori, anche scienziati, che hanno appunto questo intento, trasformare, fare della vita un'opera d'arte, in modo tale da essere una sorta di campione, di archetipo della vita umana nel passaggio di questo tra l'Ottocento e il Novecento e quindi nella ricerca del valore estetico assoluto. Ora c'è da considerare che questo tentativo di risvegliare il bello si trasforma anche in un altro movimento, sempre inglese, un movimento che noi chiamiamo Arts and Crafts, un movimento che tende a restituire dignità all'artigianato. Cioè se è vero che l'artigianato era stato letteralmente schiacciato, soffocato della produzione industriale, è vero che l'artigianato era in grado però di produrre una unicità, produrre delle originalità e allora ecco che nascono una serie di movimenti accanto appunto al cosiddetto estetismo, volti appunto ad esaltare l'artigianato. All'ater quindi della produzione in massa industriale c'è una produzione artigianale che riparte in modo particolare e questa produzione artigianale trova tutta una serie di personalità che si dedicano a questo e che creano dei prodotti che certamente non sono alla portata di tutta quanta la popolazione e rimangono a pannaggio di una classe se vogliamo estremamente privilegiata che non ha però più attenzione l'aristocrazia o la nobiltà che c'era stata nel Medioevo o c'era stata nel Rinascimento ma è quella grande borghesia industriale che è il vero grande motore del passaggio verso l'età moderna. Il movimento dell'Arts and Craft trova alcuni esponenti straordinari come per esempio William Morris che si occupano veramente di ricercare il bello nelle linee. Nasce in questo momento quel fenomeno o meglio quell'elemento che noi consideriamo un prodotto della civiltà dei nostri tempi che invece è molto importante e nasce in questa fase qui che è il design. Il design è se vogliamo un surplus rispetto all'utilità. Fino a questo momento si creavano degli oggetti che fossero utili e funzionali. Da questo momento questi oggetti utili e funzionali che possono essere creati anche industrialmente hanno nella loro produzione industriale un qualcosa che l'elemento industriale non può avere, cioè l'unicità e l'originalità che gli dà l'intervento manuale dell'artigiano. Ecco, in quest'ottica quindi che cosa succede? Cominciamo per esempio la produzione veramente spasmodica di oggetti. Oggetti che diventano, cominciano ad essere collezionati o riuniti proprio per essere traccia, testimonianza della genialità e dell'originalità umana. E quindi è quelli che nasce un collezionismo non mirato a un'arte in senso assoluto o mirato in realtà a un particolare personaggio, a un particolare autore, a un particolare artista, ma il collezionismo dell'oggetto in quanto tale. E quei famosi, diciamo, prototipi del modello umano rivolto all'arte come Oscar Wilde o come Gabriele D'Annunzio diventano appunto dei promotori di questa art and craft. Questa è un'immagine che rappresenta il vittoriale degli italiani, cioè la residenza di Gabriele D'Annunzio a Gardone sul lago di Garda e in questo caso vedete che le sue stanze, diciamo tutta quanta, la sua abitazione è veramente una raccolta maniacale di oggetti. Ogni oggetto testimonia un simbolo, ogni oggetto è un oggetto unico. Curioso, in una società che si pasce della produzione in massa e quindi la diffusione incredibile di quelli che sono i prodotti del genio umano, della produzione umana, comincia la ricerca verso l'artigianato. Artigianato che un tempo era un oggetto che era utile e bello, quell'oggetto perde sempre di più la sua utilità per acquisire sempre di più la sua bellezza. D'accordo? Appunto l'arte in virtù dell'arte, l'arte fino a se stessa. E quindi le abitazioni di questi signori, di questi personaggi sono ricchissime di materiali. Questa è l'immagine che vedete qui, ad esempio vedete, si vede in primo piano qui in basso, questo è il lavandino, vedete? Quindi siamo nel bagno, qui dietro c'è la vasca da bagno, cioè voi potreste sembrare che questo in realtà è uno studiolo, no? No, è il bagno. Ecco, anche la stanza da bagno diventa un modo che l'uomo esteta ha di vivere nel bello in quanto tale. Ecco, questa reazione a, diciamo, all'industrializzazione, questo veramente ricorso al bello artigianale è ciò che caratterizza quel fenomeno che noi chiamiamo art nouveau, un'arte nuova, un'arte che si rinnova, potremmo dire, perché ogni arte nel momento che compare, ogni fenomeno artistico nel momento che compare è nuovo, se vogliamo. Questo invece per art nouveau, che è il termine con cui questo fenomeno viene indicato in Francia, a partire appunto dalla fine del 1800, indica un'arte che si rinnova, o meglio, più che si rinnova, potremmo dire una palingenesi dell'arte. Non si rinnova, ma rinasce, veramente. Rinasce per manifestare quella sua unicità che l'industria non può comunque in nessun caso sottrarle. L'art and craft, soprattutto appunto in questi personaggi come William e Morris, si dedica per esempio allo studio, alla produzione di nuove tematiche decorative, nuove sequenze decorative, nuovi temi, abbinamento di nuovi colori, nuove trame in ambito per esempio della tessitura, cercando di utilizzare l'industria per quello che sono l'uso di nuovi materiali, i nuovi sistemi di filatura, ma dove però interviene il genio umano. Ecco quindi che ad esempio noi abbiamo produzione di tappeti, o produzione di vetri, o di ceramiche, sempre con l'intento appunto di arrivare a far vedere come l'industria, la macchina non può produrre genialità. All'epoca ancora non c'era questo concetto dell'intelligenza artificiale. La macchina può pedisseguamente riprodurre un tema, riprodurre un oggetto, ma perché questo oggetto diventi bello e quindi diventi arte, c'è bisogno del genio umano, c'è bisogno appunto dell'intervento umano. Questo è art nouveau. L'art nouveau però poi aggiunge anche qualcosa di ulteriore. Alla produzione di tessuti, alla produzione quindi di materiali, abbina anche una ricerca, la ricerca dell'essenza della decorazione. Si domandano gli artisti, gli intellettuali, i filosofi, i pensatori potremmo dire di questo momento a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Che cos'è l'arte? O meglio ancora, quali sono gli elementi, quali sono i mattoni che creano l'arte? Perché l'arte è un concetto ovviamente, ma qual è la distanza? Quali sono le cifre stilistiche? Quali sono i caratteri che fanno sì che un elemento passi dall'essere un prodotto, all'essere un prodotto artigianale, all'essere un prodotto artistico. Ecco, questo è veramente il pensiero, la sperimentazione. E quindi su che cosa si va a lavorare? Sull'idea della decorazione. La decorazione è fatta di linee, perché in fondo il bello per noi è riconoscibile attraverso la forma e la forma è fatta di linee. E allora, possibile che lo studio della linea sia ciò dietro cui si può nascondere il bello nell'arte? Possibile che il decoro è ciò che veramente porta all'arte e il decoro è fatto in realtà da linee. In fondo, se io voglio fare intorno a una fotografia una cornice, posso fare una cornice molto lineare, ma quello è semplicemente una cornice. Ma se questa cornice la arricchisco con delle linee, ecco lì che quella cornice può diventare un oggetto d'arte. Quindi lo studio della linea in quanto tale diventa uno dei principali elementi su cui si concentra l'attenzione dell'arte nouveau. E per questa ragione, ecco che quindi la linea viene, potremmo dire, analizzata, viene studiata, se ne percepisce il carattere semantico. Che cosa significano delle linee che noi possiamo intendere come linee curve, attorcigliate, così? Cosa significa? O delle linee spezzate, o delle linee che siano in realtà interrotte, come questa? O che cosa significano in realtà dei nodi che si sovrappongono, che si attorcigliano? Tutti questi elementi cominciano ad avere un loro significato semantico. Non solo, ma si va a scoprire che hanno un riflesso nell'atteggiamento umano, nel modo di come l'uomo vive questa cosa. Ed ecco allora che questi incroci, questi intrecci, questi labirinti, queste onde di linee diventano appunto il vero elemento su cui si catalizza l'attenzione dell'artista. Questa cosa parte già dagli studi, ad esempio, delle carte geografiche o dei codici, degli scritti del 1500. Spesso, per esempio, nei portolani, nelle carte geografiche del tardo rinascimento, quando accompagnano le scritte, per esempio sotto i mari, sotto le nazioni, ci sono quegli svolazzi, ci sono quegli elementi che fanno così, o anche nelle firme che vengono messe nel 500, nel 600. Le firme di alcuni grandi artisti sono caratterizzate sotto da linee ondulate che si incrociano. Ecco, questo indica una nobilitazione della scritta o della carta. E allora, se basta una linea ondulata per nobilitare un nome o nobilitare una firma o nobilitare una cartina, perché non nobilitare un'opera riempiendola di queste linee ondulate e facendo che questo incrocio, questa bipartizione, questo incrociarsi e diramarsi di linee possa essere veramente il fondamento di questa nuova arte. Un'arte che quindi è tutta decoro, addirittura. Un tempo si badava che il quadro, oltre ad essere bello, esprimesse una storia, raccontasse un episodio mitologico o raccontasse le vicende di un individuo o esprimesse un paesaggio. Adesso, pochi essi fa arte per arte, non è necessario che l'oggetto d'arte rappresenti un individuo, rappresenti un paesaggio o rappresenti una storia. L'oggetto d'arte può anche non rappresentare nulla, senza per questo perdere la sua dignità di opera d'arte. Ecco, questo è il vero messaggio che l'arte, nel passaggio dall'Ottocento al Novecento, vuole dare. Ecco. E nascono quindi delle decorazioni estreme. Il decorativismo, la decorazione anche lei, portata all'estremo, fine a se stessa, fatta con una sequenza di elementi che si incrociano, che si rimandano a quella che è la grande maestra di tutto, che è la natura. Cioè, gli artisti si rendono conto che certe intuizioni che hanno non sono frutto di una loro speculazione, ma sono in realtà veramente un insegnamento che a volte in modo, potremmo dire, inconsapevole prendono dalla natura. La natura resta la grande maestra, come l'era stata per gli artisti dell'antichità, come l'era stata per gli uomini della preistoria, al mondo classico, al Medioevo, al Rinascimento, quando i fiori, gli alberi, i paesaggi erano coloro che davano degli elementi di carattere artistico e culturale. Ma la natura qui perde anche lei il suo carattere narrativo. Non è importante rappresentare un paesaggio, è importante cogliere l'essenza delle linee di quel paesaggio, l'essenza delle linee di quei fiori e combinarle, secondo il piacimento dell'artista, per ottenere un decoro, ottenere un elemento che di fatto è di per sé oggetto d'arte, con cui io posso arricchire qualunque cosa, posso arricchirvi in realtà un vaso, un caminetto, una statua, anche una figura umana, d'accordo? Senza però che questo elemento arrivi a turbare l'importanza della cosa che voglio sottolineare. Alcuni maestri fanno un uso subito straordinario di questa intuizione. Quasi contemporaneamente in Inghilterra, come in Francia, come in Italia, un po' tutta l'Europa che era, potremmo dire, veramente agli albori della sua industrializzazione, abbraccia questo nuovo modo di interpretare il bello. E non sorprende che quella che noi chiamiamo art, quella che i francesi chiamano art nouveau, venga conosciuta in ogni paese con un nome diverso. In Inghilterra viene chiamata modern style, in Germania viene chiamata nuova arte o arte giovane, in Austria si parla di arte della secessione, in Italia si parla di liberty. Sono tanti nomi diversi per indicare in ogni singola nazione uno stesso movimento, una stessa idea, uno stesso senso dell'arte che si sta rifondando da zero. Ed è chiaro che laddove si deve lavorare sulle linee, ecco che i nuovi materiali o la nuova lavorazione di questi materiali aiuta. Ecco allora per esempio che si va a recuperare un concetto che era un concetto mediovale, quello del vetro colorato, quella della vetrata pulicroma. La vetrata in fondo è fatta di linee, si pasce di questa articolazione delle linee che sono fatte in realtà da un incrocio di figure fatte in ferro e piombo che tengono insieme i diversi elementi di vetro creando l'immagine, come in questo caso, di due bellissimi pavoni. D'accordo? È chiaro che qui vedete si gioca tutto sulle linee e è un incrociarsi di linee per fare gli animali, per fare gli elementi floreali, ma anche per scomporre il colore. Perché la vetrata colorata questo fa, come un pittore, come un impressionista che fechevano fino a poco da un po' prima, dove scomponevano il colore creando i rivesti riflessi, allo stesso modo la vetrata colorata tipica dell'arte nouveau, scompone il colore in una serie di quadri ben distinti, arriva in realtà a dare a ogni colore una sua individualità, a creare in realtà un avvicinamento, una sequenza, una mescolanza senza però mescolare il colore. E questo è una cosa che solo con il vetro e con l'esaltazione delle linee si riesce a fare. Questa cosa in realtà viene presa e esaltata. Nascono veramente dei giochi cromatici straordinari. Vedete come in questo caso, per esempio, la natura viene, diciamo, snaturata. Cioè non c'è una pianta rappresentata nel suo colore, non c'è un prato. Ci sono una serie di linee che non è neanche importante capire che cosa rappresentino. Certamente alcune di queste sono delle piante, alcune di queste sono delle piante con i colori, con i fiori, con le foglie, eccetera. Ma poi il tutto è contenuto in una sorta di svolazzi, di nodi, di incroci. Incroci che in realtà questi elementi gialli che vedete, queste linee gialle che vedete qui, non fanno parte della pianta. È come se fossero un avvolgimento di linee, delle spire e delle spirali e dei nodi che abbracciano i fiori, abbracciano la pianta e ne esaltano la forma, fino ad andare ad occupare tutti gli spazi che potremmo definire essere più angolari e che la pianta non arriverebbe appunto ad abbracciare. È come se la linea ridotta alla sua essenza diventa una sorta di spalliera, di tralcio, di intalaiatura invisibile e improbabile, oltre che, vogliamo dire, anche diciamo geometricamente assurda, che proietta il disegno in tutto quanto lo spazio che si ha a disposizione. L'essenza della decorazione, non solo l'arte fine a se stessa, ma la decorazione fine a se stessa. Vercade, che è un pittore e critico d'arte dei primi del Novecento, dice una cosa che è estremamente interessante in tal senso, dice che non ci sono quadri, c'è solo decorazione. Ma poiché l'arte deve mirare alla decorazione, non alla trasmissione di un messaggio narrativo, perché per quello basta un libro, basta una scritta. L'arte deve mirare al bello e il bello è la decorazione. E allora non serve fare un quadro, è importante fare una decorazione. Ecco, e l'arte nouveau produce una decorazione che è veramente fine a se stessa e lavora su tutto, perché questa è un'altra particolarità. L'arte nouveau è un'arte ad ampio respiro. Non è una cosa che poteva essere, che vi devo dire, il rinascimento, come poteva essere, anzi forse il rinascimento è l'unico elemento che un pochino gli si avvicina. Non è una cosa che poteva essere, che vi devo dire, il romanico, eccetera. L'arte nouveau si dedica a tutto, perché in fondo tutto può essere oggetto d'arte. Una penna può essere oggetto d'arte, un cappello può essere oggetto d'arte, un comodino, una lampada, una finestra, una porta, un vaso, una forchetta. Tutto ciò che è decorabile in virtù della decorazione che io gli do, può diventare oggetto d'arte. Anche il lucernario è una porta, grazie a un intreccio di ferri battuti che non rappresenta nulla in particolare. Cosa possiamo dire che è questa cosa che vedete qui? Non è in realtà né una chiave di violino, non è né un intreccio, né una pianta, né un fiore, eppure diventa un oggetto d'arte, perché è bello, perché trasmette un senso di musicalità. Sembra veramente, ha un'idea veramente di musicalità. Non è un pentagramma e non sono note, non è uno strumento musicale, né è uno spartito. È una porta, però è una porta che esprime un'idea di suono. Questa è arte. Possiamo passare intere giornate a cercare di capire o a cercare di discutere su che cosa è l'arte. A me piace dire che l'arte è ciò che provoca un'emozione che altrimenti sarebbe provocata da un'altra cosa. Ecco, quella forse è arte. Molti storici e storici dell'arte dicono che l'arte è comunicazione. No, io non ne sono convinto. La comunicazione può essere fatta da tante cose. Anche un improperio, anche un grido, sono una comunicazione, perché si comunica qualcosa, ma non è detto che sono oggetti d'arte. Qui si è nella dimostrazione come l'arte è decorazione pura e può carteggiare anche delle cose insulse. Non sorprende che quindi proprio l'arte nouveau si dedichi a tutto. Guardate questo qui. Questa è la cosiddetta casa di Le Mans in Francia ed è un luogo in cui diversi esponenti dell'arte nouveau cercano ognuno a modo suo di manifestare le loro idee. E guardate, questa è una casa con un caminetto. Possiamo discutere quanto questo caminetto che vedete qui nel mezzo possa essere efficace o come possa essere capace di cuocerci le salsicce, magari. Però non c'è dubbio che sia un oggetto d'arte. Guardate lo studio, per esempio, della composizione. Guardate anche come, in fondo, persino il mondo industriale suggerisce. Vedete? Il caminetto è qualcosa dove si mette il fuoco. È un po' come la caldaia delle macchine a vapore. È un po' come una locomotiva. E loro qui, guardate, si è cercato di intuire l'idea del caminetto come fosse, vedete, la parte della locomotiva di un treno. E tutte le vetrate in fondo, invece, dove prevale il tema naturale, con i fiori, con l'acqua e così via. È una cosa veramente straordinaria, se vogliamo. E considerate che proprio questa ricerca dell'arte e dell'artigianato produce tutto un movimento, tutto un concetto di idee, di creazione, di oggetti. Guardate, questo qui, per esempio, è il Musée Moreau a Parigi, la scalinata. Questa è una scala chiocciola, cioè non è una scalinata marmoria come può essere le scalinate del Bambitelli o del Bernini, eccetera. È una scala tutto sommato pratica all'interno di un locale pubblico. È una scalinata che deve occupare poco spazio, che deve essere fatta in materiale abbastanza resistente, senza lasciare troppo spazio a quello che è, magari, invece, senza occupare, scusate, troppo spazio dell'ambiente. Eppure guardate, guardate che sinuosità, che insieme, che equilibrio che ha. di rendere conto che possiamo veramente cominciare a usare una parola che fino a questo momento nell'arte non abbiamo mai usato, la parola design. Ad design questa scala. È fatta, guardate, da una composizione, da un insieme di strutture che sono elicoidali e nel contempo angolari, che sono filiformi. Perché le nuove tecnologie di lavorazione del ferro crea, in realtà, una capacità filiforme di fare l'arte. Ridurre l'arte, ridurre la decorazione a una linea. Una linea che è, però, il fondamento della decorazione. Nel suo avvilupparsi, nel suo attorcigliarsi, annodarsi e arricciarsi, se vogliamo. Come fa un tralcio di vite? Come fa la natura quando fa germogliare un fiore? O fa sbucare l'erba? O fa allargare l'albero durante la primavera? Vedete quando dico che la natura è comunque maestra? È maestra persino in una struttura fatta tutto quanto in ferro battuto e legno, come vedete qui. Ecco, questo è l'essenza del decorativismo dell'arte nouveau. E' chiaro che poi ne nascono una serie di, diciamo, di individualità artistiche che lavorano su questo, lavorano sull'elaborazione, sullo studio, appunto, di questi materiali. Come noi abbiamo, per esempio, in questo bellissimo vaso di Lalique, dove vedete che in realtà c'è l'oggetto di vetro, il vaso di vetro, che viene però avvolto in queste lamine d'argento che disegnano, guardate, questi tulipani in cui l'iridescenza del vetro diventa tutt'uno con l'iridescenza dell'argento. Vedete? Una mescolanza di materiali straordinaria, vetro e argento. La tecnologia consente di farlo. In realtà è un vaso. I vasi vengono prodotti industrialmente. In quel momento sono fabbriche che ne sfornano 300-400 al giorno. Una cosa che nella produzione umana non era mai stata fatibile. Ma qui questo no. Questo è prodotto del genere umano. E che dire in realtà di qua, allora, di questo orologio, guardate, con una composizione incredibile, la linea ridotta veramente all'essenza. L'arte è ridotta all'essenza. Guardate che movimento. E perché questo? Perché è un orologio. L'orologio indica il movimento. Il momento per eccellenza, il momento del tempo. E allora, la linea in questo caso, vedete, di questa struttura che è nel contempo vuota e piena. È vuota perché è fatta solo di linee, ma è piena perché è fatta di linee che riempiono uno spazio. E ogni linea è diversa all'altra. E guardate, si avviluppa nell'aria, lui che è un orologio, come il fumo di una candela. E quindi dà il senso di questa candela che si strugge e quindi che indica il passare del tempo. Ecco, questo è ciò che per noi è veramente straordinario da intendere in quest'ottica. Tenete conto che questa sequenza, appunto, vedete, di elementi che si annodano, che si allargano e si contraggono e indica anche lui un modo per intendere il passare del tempo, l'avvilupparsi delle ore. Compaiono grandi maestranze in questo momento, figure come Tiffany, ad esempio, nella lavorazione del vetro. Abbiamo una serie di figurazioni, abbiamo già parlato di Lalique, poi c'è Tiffany, Fabergé, eccetera. Personaggi che trasformano oggetti che prima sarebbero stati semplicemente oggetti d'uso quotidiano in opere d'arte. Questa bellissima lampada di Tiffany, guardate, dove si riprende il tema del vetro colorato, lo si combina con l'essenza della linea del, vedete, potremmo dire veramente del vetro e ferro, vetro e piombo. Qui in realtà non è così, questo è tutto vetro. Ma non è solamente vetro soffiato e lavorato, è una sequenza di colori, colori che si combinano, forme strane, la mescolanza tra una lampada larga a fungo e contemporaneamente un piedistallo che rappresenta la base di un albero dove fioriscono queste ninfee che sono in realtà delle coppe. Ecco, ovviamente anche qui arte fine a se stessa, decorazione fine a se stessa. Potremmo discutere sull'effettiva utilità o sull'effettiva praticabilità di quei soggetti. Ma in fondo, quei soggetti non è detto che debbano necessariamente essere utili e pratici. Se vuoi un vaso utile e pratico, compri quello a produzione industriale. Questo è un'opera d'arte, questo è come se fosse un quadro. Un quadro non deve servire a qualcosa. Una statua non deve servire a qualcosa, deve in realtà raccontare se stessa, deve esaltare se stessa. Chi l'ha fatta, chi l'ha voluta. Ecco, ed è in fondo quello che quei soggetti devono fare. L'arte nouveau trasforma, non solo recupera l'artigianato, ma trasforma l'artigianato in arte. E che dire dell'oreficeria? Abbiamo interi gruppi di artigiani specializzati, di artisti che si dedicano all'oreficeria. Già vi ho detto Fabergé, ma addirittura grandi artisti di questa fase, personaggi come Mucha, come Klimt, si dedicheranno a disegnare elementi dell'oreficeria, come questa bellissima spilla, fatta con una serie di pendenti in smalti, oro, pietre dure e spirali di rame e d'argento per ottenerle nell'effetto di policromia. Addirittura a volte si va a pescare, si va a guardare quelli che sono dal mondo antico, come nelle immagini dei bracciali fatti a serpente che avvolgono appunto i polsi per esaltare un po' la delicatezza delle braccia delle signore. Quindi un'arte che coinvolge veramente tutto, dall'oreficeria all'architettura, ai quadri, a quelli che sono gli oggetti del quotidiano. A cosa servono per esempio le uova di Fabergé? Sono dei gioielli, ma non sono gioielli che vengono indossati, sono gioielli che vengono regalati, quindi non esaltano la bellezza di uno che li indossa, esaltano la raffinatezza di chi li dona e di chi li riceve. Quindi vedete un'arte che a volte serve come elevazione di status, serve come esaltazione dell'idea, del pensiero, dell'individuo e non ad arricchirne il fisico e la forma. Ecco, vedete? Arte che sfugge sempre più agli vincoli che aveva avuto, arte che sfugge a quella che è la strumentarizzazione del pensiero politico o l'uso dell'oggetto, un'arte che diventa appunto ars grazia artis, un'arte fine a se stessa. Ora, l'idea della linea, al concetto della bellezza della linea non sfugge alla figura umana, perché la figura umana è anch'essa una linea, non solo, ma l'essere umano in base alle posture che può assumere in base alla posizione si può trasformare in una linea. E allora perché se io uso delle linee, come abbiamo visto, per decorare un oggetto, perché quella stessa andamento di quella linea non può essere assunto da una donna in quel caso, o da un altro essere umano, ma soprattutto della donna, è un momento molto importante, una delle fasi in cui c'è veramente un passaggio, è uno dei grandi periodi in cui c'è una nuova sfera, un nuovo concetto, una nuova idea del femminile. La donna assumendo certe posture sinuose può veramente trasmettere un messaggio. Aiuto presente in questo periodo, per esempio in quelle foto d'epoca, dove sono rappresentate queste femme fatale, pensate a queste Sarah Bernard oppure Eleonora Duse. In queste foto non sono semplicemente così, o non hanno le posizioni in realtà che hanno nei quadri dei ritratti femminili del 1600. I ritratti del 1600, del 1600, abbiamo delle donne bellissime, pensate che non so, alla Gallerani di Leonardo da Vinci, oppure pensate alla donna con il liocorno di Raffaello, sono tutte donne bellissime, ma rappresentate così a mezzo busto. Pensate alla Gioconda, è chiaro? Cioè, la bellezza è nella donna. A partire da questo momento le donne cominciano ad avere posizioni particolari, posizioni sinuose, posizioni particolari delle mani o delle gambe o della testa. Queste attrici che si fanno rappresentare, per esempio, viste di profilo per esaltare le linee del loro profilo, la lunghezza del loro collo. Ecco, quello significa la linea che è il fondamento, l'elemento base della decorazione che va a caratterizzare l'arte. In fondo il bello è fatto di linee. Ed ecco quindi che quella stessa decorazione che abbiamo visto praticamente fino ad adesso, fatta cioè di elementi floreali, di elementi vegetali che si combinano e fanno intrecci, fanno nodi, fanno composizioni così, che invece si combinano alla figura femminile. La figura femminile con l'abito disegna altre linee, altre spirali, vedete? Come fosse una continuazione della parte vegetale, così si annoda, si combina sotto e guardate questa figura femminile rappresentata di profilo, rappresentata con le ginocchia, vedete anche loro piegate e con le mani oltremodo piegate. La postura. Una postura che parte da qui arriva alle fotografie artistiche, anche alle fotografie erotiche della nostra epoca. Vedete quanto tutto questo comincia, veramente, la decorazione. Chi è questa donna? È una ninfa? È una meretrice? È una dea? Non ci interessa. Non interessa chi è la donna, interessa chi è bella ed essendo bella è arte. D'accordo? Questa è la vera essenza dell'arte nouveau, di quest'arte che supera le limitazioni che sono state poste dall'industrializzazione e riscopre se stessa e si riscopre potente. D'accordo? Questo è il vero messaggio che ci vuole dare. Una cosa curiosa, questi messaggi sono messaggi talmente forti che succede una cosa interessantissima, cioè la donna diventa, guarda caso, proprio l'oggetto d'arte per eccellenza. Ci sono alcuni artisti che costruiscono proprio sul concetto della donna e del decorativismo femminile, questi sensi. Uno di questi è Mucha. Mucha è un artista cieco che dopo una prima fase artistica a Praga, dove in realtà di fatto era stato fortemente, potremmo dire, combattuto, contestato, spostandosi in Francia, diventa uno dei massimi esponenti in questo senso. E guardate come lui appunto veramente fa ricorso della figura femminile e del decorativismo. Queste sono due creazioni di Mucha, il job, vedete si chiamano così, intende appunto il lavoro, cioè ciò che viene prodotto, dove la scritta job, vedete, job, in realtà è fatta di lettere particolari, sono lettere tonde. La scelta di questo lettere non sarebbe funzionata questa opera se avesse usato in italiano lavoro, perché il lavoro è usato con delle lettere dure, la L ha una forma spicolosa, la V anche, invece guardate, job, anche linguisticamente job. Quindi c'è la J che è fatta, vedete, da un ricciolo, la O che è rotonda, la B che è fatta anche lei da due cerchi e tutto questo rotondo si combina con il rotondo della donna, con i capelli della donna che sono rotondi, ma, consentitemi, con le forme della donna che sono tonde, il seno, i fianchi. Vedete, queste donne poi non si può dire certo che siano filiformi, d'accordo? E quindi questo andamento curvo, tondo, costruisce l'estetica, costruisce la bellezza. E la stessa cosa anche in quest'altra, in quest'altra figura che vedete qui, vedete, anche qui, guardate questi capelli alti, rialzati, si combinano in job e queste composizioni, così, e guardate questa posizione della mano, innaturale, anche cioè non si capisce la mano in questo modo, di fatto sì, tiene una sigaretta in mano, il fumo, vedete, si avviluppa, così, ma tutto quanto poi si combina. E guardate come in questa sinfonia di forme, perché una vera e propria sinfonia, se mi consentite, questa sinfonia di forme è sinfonia a tutti gli effetti, perché guardate, i capelli della donna, vedete, diventano quasi delle chiavi di sol, quasi delle note musicali, vedete, sono abbinate come se fosse un pentagramma e nel contempo sono attorcigliate come se fossero le chiavi di sol. Ecco, il simbolo, il simbolo della musica, del ricciolo, della bellezza, dell'equilibrio, la sinfonia intesa nel senso etimologico del termine, sinfonia, cioè suoni tutti insieme. E qui la forma suona insieme al colore, suona insieme al suono job, che vedete qui, suona insieme alle linee. Ecco, questo equilibrio straordinario. E guardate come è un'arte che si fa piacere. È una cosa curiosa, Salvatore Dalì, quando ha espresso un giudizio interessante su questo modo di dire, secondo Salvatore Dalì, questi quadri dell'arte nouveau sono terrificanti e sono commestibili, fanno venire un senso di buono, ma di buono anche nel senso di mangiarli, di saporiti, di dolce, d'accordo? È interessante, questo è un po' un modo di interpretare, di leggere l'arte nouveau in tutti i suoi aspetti. Sempre in muccia, guardate, ci sono cose straordinarie, straordinarie. Quante volte noi nell'arte umana abbiamo avuto dai mosaici dell'epoca romana, alle figurazioni delle pitture medievali, fino alla rinascimento, le stagioni. Sempre il tema della stagione è rappresentato attraverso una figura femminile, no? Fin dai mosaici dell'antica Roma, cioè la donna col cappuccio che indica l'inverno, la donna con i fiori che indica l'avere, e così via. Guardate qui, muccia come fa alle stagioni, sono figure femminili bellissime, bellissime e sensuali, guardate, con una sensualità che si abbina al colore. Cioè, guardate la primavera, per esempio, questa. Non sono i soliti fiori, guardate la posizione. Ora, sarebbe interessante, no? Dite questa cosa. Sarebbe interessante, pensate ai calendari artistici, il calendario Pirelli, che è ancora oggi famosissimo. Come cambia la posizione di quelle bellissime ragazze che fanno il calendario Pirelli in base alla stagione? Qual è la posizione dell'estate? Se io vi dicessi, mettetevi come si metterebbe l'autunno, voi come mi mettereste? Ecco, sono questi i problemi che si pongono gli artisti dell'Art Nouveau. Quali sono i colori del caldo? Quali sono le linee del freddo? E allora guardate qua, per esempio, per la rappresentazione di questa immagine qui giù, che rappresenta l'inverno, ad esempio. L'inverno è banale, è bianco, perché l'inverno è la neve. Ma allora, oltre che bianco, l'inverno è anche spigoloso. Vedete? È così. Perché l'inverno è pungente. L'inverno non è fatto di linee morbide. L'inverno è fatto di linee come sono i ghiaccioli, come sono in realtà i fiocchi di neve. È fatto così. L'inverno è fatto di un rosso del tramonto. Questo è l'inverno. E l'autunno? L'autunno è fatto dei colori caldi, delle piante che sono arancioni, sono rosse. L'autunno è un mese che mette tranquillità. L'autunno è un mese che mette sonnolenza. Allora guardate questa figura, vista in visione frontale, quasi molto lenta. E invece l'estate, eccola qui, l'estate è totalmente, vedete, immersa la natura, avvolta nei covoni, nelle messi, con questa luce che è calda ma nel contempo anche crepuscolare. E la primavera è spavalda. Vedete? Ci guarda. Così. Con un volto spavaldo quasi ci sfida. Ecco. Porsi il problema dell'iconografia, il problema del simbolo, decorazione fine a se stessa. Curioso, una cosa particolare. Da cosa nasce l'art nouveau? Dalla rivolta, abbiamo detto prima, alla produzione industriale. Di fronte a un'industrializzazione che massifica e che fa tutto uguale, che produce così, l'art nouveau riscopre l'originalità. Ed è veramente un paradosso, io se devo dire quasi una pena del contrapasso, che proprio gli artisti dell'art nouveau sono stati i primi piegati a usare l'arte per pubblicizzare i prodotti della produzione industriale. Con la produzione industriale nasce la pubblicità commerciale e anche quindi l'asservimento dell'arte alla pubblicità commerciale. In questo caso, di nuovo due prodotti di Muccia, che è un po' uno dei più interessanti e veramente evocativi tra gli artisti dell'arte nuovo. Questo che pubblicizza, vedete, un profumo, così, questa donna bellissima, guardate, con questo svolazzo, queste trine, questi merletti della camicia da notte, che si riflette nei capelli, vedete, così, ma si riflette anche in questa specie, vedete, di elementi umosagrici dietro. O da quest'altra parte, questi, i biscotti, vedete, biscotti che, il biscotto che cos'è? È un prodotto da forno e allora vedete che questa fornaia, mamma mia, quante sono le fornaie così discinte, sensuali, la donna diventa veicolo. Oggi certamente nella, diciamo, nelle commissioni di pari opportunità la strumentalizzazione del corpo femminile viene giustamente combattuta, ma nei primi del Novecento viene scoperta l'efficacia della trasmissione del messaggio quando questo messaggio viene veicolato da un bel corpo femminile. Un bel corpo femminile che, tra l'altro, è assecondato secondo questa particolare postura. Ecco, quindi, interessante, l'utilizzo dell'arte per la pubblicizzazione di prodotti dell'industria. ora, il simbolo, il primo simbolo dell'arte nouveau è opera, in realtà, di un altro pittore che si chiama Steinlein, il quale Steinlein fece l'insegna di un locale, un locale notturno di Montmartre a Parigi. L'insegna questa qui, le tournées du chat noir, cioè il ritorno del gatto nero. E anche qui, vedete, questo è diventato un po' il manifesto dell'arte nouveau. Questa figura di questo gatto, vedete, che è rappresentato nella sua essenza. Non c'è la volontà di rappresentare un gatto che naturalisticamente sia possibile, sia efficace, col pelo e così via. No, è rappresentato in una forma stilizzata, una forma stilizzata che però è forte, efficace, è immediata, d'accordo? Non lascia spazio grandi di vacazioni, ma è immediatamente percepibile. È evidentemente l'insegna di un locale. Non c'è scritto, guardate, non è che vicino c'è scritto, qui si mesce vino, qui si bevono alcolici, qui ci si diverte, non c'è sito niente di tutto questo. C'è un gatto nero, ma guardandolo dal suo sguardo, dalle sue linee, dal suo colore è evidente che non è una lavanderia, è evidente che non è un posto dove si vende il latte o dove si fanno in realtà ricami oppure si vendono i panini. È evidente che è un locale, diciamo, molto particolare, un locale di sera, un locale in parte anche malfamato, se vogliamo. Sono simboli, elementi che vengono subito trasmessi dall'immagine. L'arte trasmette subito sensazioni. È questa immediatezza la vera innovazione di questa corrente dei primi del Novecento. In realtà si vedono già, e considera che Steinlein è un grande amico di Toulouse-Lautrec. Già Toulouse-Lautrec, negli ultimi decenni dell'Ottocento, già aveva colto questi elementi, questa ricerca veramente della linea nella sua essenza. Quanto è diversa la produzione di Toulouse-Lautrec dalla produzione degli impressionisti che giocano sul colore in quanto tal, come gusto del colore. Qui no. Qui si gioca sulla linea, al punto di ridurre le figure a silhouette. Vedete? Sono delle silhouette, spesso. Non c'è neanche l'intento di rappresentare i personaggi. Sono rappresentate delle linee, le mani e così via. C'è solo il gusto della linea. Quindi Toulouse-Lautrec è veramente una specie di punto di passaggio tra una corrente e l'altra. È un'anticipazione. Del resto sapete che l'Art Nouveau è ciò che veramente rappresenta, manifesta quel periodo che corrisponde all'ultimissimo decennio dell'Ottocento e i primi del primo del Novecento che noi chiamiamo Belle Epoque. Il trionfo di un modo di vivere. Non è una fase storica, è un modo di essere. Un modo di concepire la vita, la cultura, il mondo. D'accordo? E l'Art Nouveau è il trionfo dell'effimero. Come a un certo punto di vista è l'effimero della Belle Epoque. Ma in fondo, scusate, quale grande percentuale della nostra vita non è in realtà fondata sull'effimero. Oggi noi, oggi, in questi giorni, in questi mesi, stiamo vivendo un momento difficile della nostra storia. Siamo nel corso di una pandemia che coinvolge tutto il mondo. Molte persone hanno perso il lavoro, molte persone hanno perso la vita. D'accordo? Per fortuna, la gran parte di noi esseri umani abbiamo perso, in questo momento, una cosa che in realtà pensavamo contasse poco. Cioè abbiamo perso la libertà dello svago. Non la libertà di comportarci in un certo modo. Abbiamo perso l'effimero. Abbiamo perso il fatto di andare al cinema, di farci una bella passeggiata, di venire alle conferenze. Abbiamo perso il fatto di fermarci al bar, di andare a cena. Avremmo mai pensato che queste cose, che sono tutto sommato così poco importanti, si rivelassero invece così tanto importanti per noi? Quanto è diventato pesante per noi non andare a mangiare fuori la sera, non fermarsi ad abbracciare un amico, non venire alla conferenza, non andare al cinema. Quanto è diventato pesante non fare questo. Quindi a quanto pare l'effimero è molto più importante di quello che noi avevamo mai immaginato. E non sorprendiamoci quindi che quest'arte sia dedicata all'effimero. Perché anche l'effimero a quanto pare ha un peso notevole nella nostra esistenza. Guardate in questo senso, questo bellissimo quadro, sempre di Toulouse-Lautrec. Cosa rappresenta? Questo rappresenta un bordello. D'accordo? Ora, ma guardiamolo. C'è qualcosa che veramente in questo momento ci indica che questo è un bordello? In realtà non ci sono uomini che stanno parlando con queste donne di scinte. Sono solo delle donne di scinte. Teoricamente potrebbe essere in realtà una stanza di un edificio termale femminile. Sono seminude così perché sono in progetto di farsi un bagno, di fare una sauna. Non ci sono elementi che indicano la professione, tra virgolette, peccaminosa di queste donne. Eppure guardate, guardate le loro posizioni che hanno. Il contrasto tra il rosso delle tappezzerie, il rosso così, il rosso dei loro capelli con il biancore della loro pelle. Questi contrasti cromatici così forti, così violenti, così carnali ci suggeriscono quello che è l'ambientazione di questo luogo. Eppure è solo un gioco di linee e di colori. Guardate quanto la linea e il colore insieme riescono a fare. La consagrazione dell'arte nouveau c'è stata nella grande esposizione universale di Parigi del 1900. Già nell'esposizione di Parigi del 1900 proprio l'arte nouveau si è manifestata. Ogni paese che interveniva nell'esposizione veramente si presentava con una sua corrente e si è scoperto che questa corrente artistica c'era dappertutto. Vi ho detto prima, ognuno la chiamava in modo diverso. Chi la chiamava Liberty, chi la chiamava... anzi, ancora Liberty qui non si chiamava. Chi la chiamava arte nouveau, chi la chiamava modern style e così via. ma ogni paese l'aveva abbracciata perché è la legittima conseguenza di questo modo di essere che c'era stato negli ultimi anni del 1900. Ma ancor più che nell'esposizione di Parigi del 1900 veramente l'esplosione di questa arte c'è in quella che è due anni dopo l'esposizione internazionale d'arte decorativa moderna di Torino. Vedete così? Ora Torino. Qui a... perché? Perché a Torino è stata più che Parigi? Perché a Torino c'era un'altra cosa. Primo, a Torino c'era l'impulso di un paese nuovo, dell'Italia, che voleva potentemente entrare nel panorama delle nazioni europee. L'unità d'Italia si era concretizzata solo da trent'anni. Secondo, c'era tutto il bagaglio culturale dell'Italia, ciò che l'Italia aveva dietro di sé. C'era la storia dell'Italia che partiva dall'antica Roma fino al Rinascimento e che si sublimava in questa interpretazione artistica. Laddove il pensiero dell'arte nouveau si sposa con la tradizione, la ricchezza culturale e artistica dell'Italia, lì, veramente, questa nuova arte si manifesta in modo potente. E proprio in questa circostanza venne coniata la parola Liberty. Perché? Perché proprio in questa circostanza l'Inghilterra, sapete che nelle esposizioni ogni paese creava un suo padiglione, l'Inghilterra espose quelli che erano alcuni suoi prodotti dell'industria, del commercio, tra cui alcuni che erano alcuni magazzini importantissimi, magazzini di Sir Arthur, Lassenby, Liberty, che erano dei magazzini di Londra specializzati nella vendita di prodotti artigianali dell'esterno oriente. Tappeti, ceramiche, cineserie, eccetera. E l'impatto fu tale che in Italia il nome di questi magazzini londinesi, Liberty, si cominciò ad utilizzare per intendere l'arte nouveau. Quindi il nome è inglese, Liberty, ma se voi andate in Inghilterra, questo tipo di arte in Inghilterra non è chiamata Liberty, è chiamata appunto Modern Style. D'accordo? Quindi Liberty è il nome usato in Italia per indicare l'art nouveau. E chiaramente nel momento che c'è il confronto tra i vari popoli escono fuori quelle che sono delle caratteristiche, potremmo definire, locali. E si è scoperto che ogni luogo aveva il suo modo di affrontare questo nuovo corrente, il suo modo di viverla politicamente, perché è normale, ogni paese aveva un suo orientamento politico, aveva delle sue questioni sociali, politiche e storiche. Per esempio, nei paesi di lingua tedesca si era attuata la cosiddetta secessione. Perché? Perché nei paesi di lingua tedesca c'era, potremmo dire, uno strapotere delle accademie reali. Cioè, nei paesi di lingua tedesca, in Germania, come anche in Austria, l'arte era controllata dallo Stato. In Germania dall'impero prussiano, in Austria dall'impero sburgico. E c'erano le accademie. E le accademie, che erano i luoghi dove si faceva la grande arte, erano però legate allo Stato. E quindi erano in qualche modo anche, potremmo dire, dirette dello Stato. E c'era una censura dello Stato, una censura di carattere politico, di carattere propagandistico. Bene, questa nuova arte venne certamente un po' a gettare, potremmo dire, scompiglio in queste accademie. E venne rifiutata. Ecco allora che alcuni artisti decisero di abbandonare le accademie e professare questa arte, liberandosi dalle pressioni della politica. E quindi è, in questo caso, nei paesi di lingua tedesca, l'arte nuovo divenne una frattura. O meglio ancora, una scissione o una secessione. Noi abbiamo una secessione bavarese, abbiamo una secessione tedesca, ma soprattutto quella che è stata veramente un movimento di straordinario valore è la secessione viennese. La secessione viennese meriterebbe veramente una conferenza a tutta lei per la grandezza che ha rappresentato. Ma certamente noi in questo caso la facciamo rientrare nel panorama molto più grande dell'arte nuovo. 19 artisti dell'Accademia di Vienna, abbandonarono l'Accademia di Vienna, scelsero come loro base, come loro residenza, un edificio indipendente, diverso, che vedete qui, chiamato appunto l'edificio della secessione, che rappresenta da una parte il mantenimento e il recupero di certe caratteristiche classiche, dall'altra invece una nuova idea, una nuova architettura, una nuova prospettiva lineare del mondo e hanno dato origine appunto alla secessione, secessione viennese, a capo della quale è un personaggio come Gustav Klimt, Klimt è il più grande esponente della secessione viennese, è il vero vate della secessione viennese. E questi artisti cosa hanno fatto? 19 hanno creato un loro rivista, un loro bollettino, che viene chiamato Versacrum. Questa è la copertina del Versacrum, vedete, disegnata anche lei da Klimt, Versacrum. Perché Versacrum? Versacrum sono due parole latine, significa primavera sacra. Che cos'era la primavera sacra? Nelle antiche popolazioni preromane, indoeuropee quindi, era quel movimento attraverso la quale, quando una popolazione diventava stantia, cioè quando un popolo ormai arrivava in una fase, potremmo dire, stanca della sua politica, quando le generazioni ormai non andavano più nulla di nuovo, ecco lì che c'erano gruppi di giovani, gruppi di ragazzi che abbandonavano il loro popolo. Abbandonavano il loro popolo, le loro famiglie, abbandonavano in realtà la loro gente e andavano via, andavano lontano e davano origine a un nuovo popolo, una primavera sacra. Perché questi allontanamenti avvenivano appunto nella primavera. Questa primavera sacra indicava sì, certamente, l'ascissione, il distacco di una popolazione, ma anche la nascita di una nuova civiltà, di una nuova cultura. In questo concetto di questa rinascita va intesa dalla successione viannese, che però per certe cose riprende certamente quello che erano stati i caratteri, che erano stati propri dell'arte nouveau che c'era stata, in fondo è un movimento dell'arte nouveau. Guardate qui il famoso albero della vita di Klimt, ritroviamo anche qui, vedete questa serie di linee, di circoli, ma arricchita, arricchita nell'essenza, arricchita nel colore, nel tratto. Queste sono tutte quante foglie d'oro, lamina d'oro, le spirali, gli intrecci, la linea fino a se stessa, l'albero da vita come un qualcosa che non finisce mai, come una tempesta di colori. È un albero, guardate, che sorge su un prato fiorito, ma ha esso stesso un tronco fiorito, vedete? Il tronco stesso non è il palo, il sostegno della pianta, ma lo stesso è un fiore e fiorisce in ogni elemento. E la spirale, sono tutte quante spirali che proliferano una dall'altra e ognuna fiorisce, vedete? E gli esseri umani, le creature che vivono in questa sovrabbondanza, vedete? Sono coinvolte anche loro dall'oro, dalla ricchezza, dall'amore, si baciano. Quindi è, si è detto molto, chi rappresentano questi personaggi qua? Come questo qui è una madre, questo qui sono una coppia di diamanti. Non è importante chi rappresentino questi. Non è importante se questa che vedete qui è Giunone o è Cleopatra e questo che vedete qui è Bacia è Giove con Danae. Non è importante questo. Il dettaglio mitologico è veramente un dettaglio. Quello che è importante è il senso di ricchezza, di vita, di bellezza, di eternità che questo segno dà. D'accordo? Questo è il senso del decorativismo, l'arte fine a se stessa. Ricordate quello che dice Verkhardt. Non guardate il quadro, non è un quadro, è decorazione. È chiaro? E quindi non ha messaggi intellegibili da darvi, ha emozioni da darvi. Questo è l'elemento importante. Oltre all'opera straordinaria di Klimt, la pallade, Atena. Atena, potremmo passare qui un'intera giornata a dire come sei Atena. Atena è conoscenza, Atena è sapienza, Atena è intelligenza, Atena è guerra. Ma non è importante questo. Quello che è importante è che, in questo divinto di Klimt, Atena è divina, è dea. Non ha nulla di umano. Guardate com'è rigida, com'è nel contempo umana e disumana. Com'è nel contempo, vedete, cerulea e pallida, dorata e splendente. Com'è femminile e marziale. Sono questi contrasti importanti. E rappresenta che cosa? Il divino. Il divino che sì, ok, è sapienza, è conoscenza, è guerra. No, è il divino in quanto tale. è intelligenza. Qui, Klimt, per rappresentare l'intelligenza umana, che ha componenti umane ma anche divine, ha usato Atena. Ma è il colore. Cioè, noi che siamo europei, vediamo questo, leggiamo la scritta pallade, così, capiamo che Atena e ci dice tutto. D'accordo? Ma quest'opera è fatta in modo tale che se questo quadro viene visto da un indigeno dell'Amazzonia, che non sa chi sia Atena, non sa niente, questo quadro comunque gli trasmette divinità, sacralità, conoscenza. D'accordo? Per il tipo di colore, per il tipo di forma, per il tipo di oro che riporta. In questa interpretazione l'Art Nouveau va a pescare nell'esotico, va a pescare nel tempo, va a pescare in ciò che è lontano, sia nel tempo come nello spazio. E va a cercare quella che secondo lei era nel momento in cui l'uomo viveva di più in forma istintiva, di più in forma travolto dai sentimenti. Non è un caso che l'Art Nouveau viene indicata da alcuni come un nuovo romanticismo, cioè una nuova ricerca dell'emotività umana. E allora qual è uno dei periodi in cui ha maggiormente trasmesso questo senso, questa forza di emozioni. Secondo loro era il Medioevo, un'epoca che loro indicavano come oscura, pericolosa, terribile. E non sorprende quindi che per esempio in corrispondenza di questo momento c'è un ritorno del Medioevo, cioè quello viene chiamato anche il Gothic Revival, per esempio, cioè il recupero del gotico, un finto gotico. E ecco che quei paesi che avevano una grande abbondanza di resti medievali, hanno questa rivalutazione di questi resti medievali, che vengono fortemente potenziati. Questo qui per esempio che vedete? Questo è Carcassonne, no? Carcassonne, siamo vicino sui Pirenei, in Francia. Carcassonne era un sito molto importante nella storia, perché era un luogo che ha visto la guerra degli Albigesi nel XIII secolo, eccetera. Ma era, come tantissimi altri luoghi, era molto rovinato, malmesso, eccetera. Bene, nei primi del Novecento, fino all'Ottocento, primi del Novecento, tutti questi luoghi vengono restaurati. Restaurati in forma ancora più fantasmagorica, favolosa. Il tipico castello, vedete, con le torri a punta. Questi castelli non erano così, erano molto più semplici. Ma questi restauri servono ad aumentare l'effetto fiabesco del Medioevo. Viene aumentato l'effetto fiabesco dei luoghi antichi o dei luoghi lontani. E come, scusate, come le descrizioni della Cina o dell'India che c'erano nella letteratura dell'epoca. Se voi andavate in India o in Cina, non vedevate quelle cose lì. Vedevate una vita, certamente orientale, ma meno fiabesca. Pensate ai romanzi di Kipling. Pensate a questo mondo che viene descritto in modo veramente misterioso. Pensate ai misteri della giungla nera. Voi andate nella giungla e non vedete quelle cose lì. Perché il mondo viene esaltato nel suo mistero, nella sua emotività e arte, se vogliamo. E nasce anche una pseudo-architettura che recupera il Medioevo, il cosiddetto Gothic Revival. Come ne abbiamo ogni nazione al suo Gothic Revival. Come Inghilterra, questo è il Parlamento di Londra. C'è ancora chi pensa che il Houses of Parliament, che il Palazzo del Parlamento sia medievale. Non è medievale. Questo è fino a 800, anche il Big Bang, inizi in 900. Eppure vedete questo Medioevo, no? Che serve a esaltare. Perché il Gotico è fatto di linee. Perché non c'è un recupero? Anche l'epoca Longobarda era Medioevo. Anche gli Ostrogoti erano Medioevo. Ma l'arte barbarica non ha queste linee lunghe, affusolate, incrociate, come al Gotico. Ecco perché il Gotico viene recuperato e potenziato nel Medioevo, nell'arte nuovo. E non sorprende che nasce un Medioevo fantastico. Uno dei massimi interpreti di questo Medioevo fantastico è Gaudì. Che poi ha tutta una sua visione nazionalistica catalana, se vogliamo. Gaudì è veramente colui che si pasce di questo Medioevo fantastico, no? Questi luoghi onirici. Questo che vedete qui, a Leon, questo nasce come palazzo vescovile. Sembra veramente il castello, vedete, di un vescovo, tra l'altro un'interpretazione catalana, di una sorta di mago. Sembra il castello di un mago, il palazzo del vescovo, d'accordo? Perché il vescovo in realtà è un personaggio che ha dei poteri religiosi, sacerdotali, quindi c'è questo aspetto magico nella sua forma. E quindi il palazzo è concepito in questo termine, vedete? Ma nel Medioevo non c'era niente di fatto in questo modo, con queste punte. Questo veramente è un'architettura fiabesca. Del resto, sempre rimanendo in Gaudì, che appunto è uno dei massimi esponenti di questo orientamento, se noi pensiamo alla casa Batillò a Barcellona, e questa sembra la casa degli ignomi. È il mondo fiabesco, appunto, con queste linee così particolari, questi comignoli, se vogliamo così affusolati. A metà tra il mondo, l'Oriente di Samarcanda e la storia degli elfi e degli ignomi, non vuole essere naturale, non vuole essere reale. Perché il reale, l'abbiamo detto tante volte, è apparenza nell'idea degli artisti. Mentre tutto questo, queste finestre così particolari, eccetera, sono linea. Certamente, spesso, ricordate, l'abbiamo detto prima, la linea sacrifica l'utilità. Cioè, queste finestre, fatte in questo modo, sono bellissime, ma sono efficaci come finestre? Cioè, veramente possono essere chiusi a non far passare il freddo? Veramente? Possono veramente dare la luce come dovrebbero dare? D'accordo? Quindi, considerate che dobbiamo lavorare in questo modo, per capire che cosa è l'altro nuovo. E la Sagrada Famiglia, allora, che dire? Un'opera talmente complessa che ancora non è finita. E che è oggetto di continui perfezionamenti, perché è veramente decorativismo fine a se stesso. Con queste linee slanciate, non è più neanche gotico, è un gotico fantastico, è un gotico onirico, è la decorazione che sfugge a se stessa, d'accordo? E diventa sovrabbondante. Ma, senza andare a parlare di codice, lo abbiamo anche in Italia. In Italia abbiamo esponenti straordinari, in questo senso, uno dei più grandi e, potremmo dire, dei più interessanti architetti dell'arte non voga e abbiamo in Italia, è Gino Coppedè. Tra l'altro, questi architetti spesso nascono con funzioni diverse. Pensate, Gino Coppedè era, come tutta la sua famiglia, una famiglia di ebanisti fiorentini. Erano decoratori di interni. Nella fase di spazio erano diventati famosi creando gli arredi dentro i piroscafi, cioè dentro le navi transatlantiche. Dove facevano qui il legno queste composizioni interessanti. A un certo punto, dato, passato, l'architettura crea composizioni anche qui fiabesche, come Villa Florio, guardate, a Palermo, con queste scale che si incrociano, questa specie di pseudo-medioevo che lascia il posto, poi vedete, a questi pinnacoli. Non si potrebbe nemmeno dire di che epoca è, se è il Rinascimento, se è 1200, se è un parco divertimenti. E questo si è in modo particolare a Roma. Gino Coppedè, sapete, è risultato talmente efficace la sua composizione, è piaciuta talmente tanto perché era interprete di un modo di essere. L'aristocrazia era ancora legata alle sue liturgie, ai suoi simboli, ma la società attiva dei primi del Novecento è la ricca borghesia bancaria o la ricca borghesia industriale e quelli vogliono un loro stile, qualcosa che distingua loro, sono dinamici. Ed ecco che Coppedè quindi prende tutti questi simboli, questi valori e crea uno stile, una sua interpretazione del liberty che è magica, è fantastica, è avveniristica, è dinamica e quindi crea intere come questo appunto il Vilino Florio o come per esempio il cosiddetto quartiere Coppedè a Roma dove ci sono cose incredibili, queste che vedete qui è per esempio la cosiddetta Casina delle Fate. Ora a vederla è bellissima, cioè guardate sembra un parco di vetimenti con questi colori straordinari, con questo torresino, è eccezionale. È chiaro che questa eccezionalità di forme e simbolica poi perde utilità, cioè questa torretta con queste stanze, sono tre stanze una sull'altra, dove ognuna di queste stanze è poco più che un metro quadro. Che ci faccio con una stanza che è poco più di un metro quadro? A che serve? A niente. Ma non è importante che serva qualcosa, è importante, che trasmette un messaggio, che dà una sensazione, dà un'atmosfera ed è questo quello che deve comunicare l'art nouveau. L'idea di un mondo che è nuovo, è fantastico, di un secolo che sta arrivando. Guardate questa è la Casina delle Civette a Villa Torlonia. Incredibile, anche questa è Roma, no? Sembra veramente un miscuglio tra un capanno svizzero, una casa di Hansel Gretel, un padiglione avveniristico in parte orientale, in parte medievale. È un eclettismo in senso assoluto, un eclettismo nel tempo e nello spazio. La faccio quindi su un mondo possibile che potrebbe diventare in base a questo splendore che il nuovo secolo sta promettendo. Anche l'arte ufficiale cerca di pascersi di tutto questo, ma deve tener conto con quelle che sono le funzionalità. Questo che vedete qui è Ernesto Basile, altro importante architetto italiano, palermitano, dei primi del Novecento che nel momento in cui Roma, diventata capitale d'Italia, deve acquisirne gli apparati, costruisce il palazzo del Parlamento. Questo che vedete qui è il palazzo di Montecitorio, la facciata del palazzo di Montecitorio su piazza del Parlamento, quindi la sede del governo italiano. Un edificio, guardate, che ha caratteristiche classiche, in fondo siamo a Roma, queste torri, questo decorativismo straordinario, ma che perde di utilità e di facilità. Lo dimostra il fatto che questo è tuttora la sede del Parlamento italiano, ma i parlamentari, i giornalisti, tutti usano la parte dietro. Voi conoscete il palazzo Montecitorio, non da questa parte qui, ma dall'altro lato, anche se la vera facciata è questa. E questo è proprio un po', potremmo dire, il paradigma, la conclusione. L'arte nouveau è un'arte straordinaria, non è solamente un fenomeno artistico, è un modo di essere e di pensare. È una filosofia, è un pensiero, è un'invenzione, è un'intuizione, una speranza, un qualche cosa che spera nel nuovo secolo pur combattendone alcuni meccanicismi che sono uno dei suoi fondamenti. E tutto questo è una corrente che coinvolge per la prima volta tutto il mondo e che interessa non solo i quadri, le architetture, ma anche le lampade, anche i tessuti, anche i tappeti, anche il quotidiano, perché anche nel quotidiano, anche nell'insulso, anche nell'inutile si può fare arte, perché l'arte è ciò che è bello e il bello è il grande anelito a cui l'uomo veramente aspira. Quindi veramente il senso di quest'arte nouveau è l'arte fine a se stessa, senza tener conto di potentati, di committenti di idee, persino di Dio nell'arte nouveau. Dio non ha posto, è arte fine a se stessa. E questo è la nuova speranza per l'arte che il secolo del nuovo, il ventesimo secolo, spera di avere per sé e per l'uomo. Grazie dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.